Leonardo Perez e la Virtus Franca Villa più vicini che mai. L'attaccante mesagnese, intercettato in merito al proprio futuro, ha svelato che la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per il ritorno al Giovanni Paolo II. I contatti ci sono stati, dice, e ne avete parlato anche voi. Personalmente ho sentito il presidente Magri, mi ha chiamato dopo la retrocessione con l'Arezzo per dirmi che era dispiaciuto. In teoria il mio agente dovrebbe vedersi con il presidente in questi giorni, in generale, prosegue, diciamo che la prossima potrebbe essere la settimana decisiva per il mio ritorno in biancazzurro. E poi, a precisa domanda sull'interesse del Taranto, Perez risponde, c'è stato qualche contatto, ma era tutto legato alla promozione in Lega Pro dei Rosso Blu, sono soltanto voci, la mia priorità è sempre stata la Virtus, speriamo. Si chiuda presto, intanto sul fronte uscite potrebbe salutare Diamante Crispino, il portiere piace a diverse compagini di Serie C e non rientra nei piani di Taurino per la prossima stagione, solo così la Virtus sarebbe libera di cercare un nuovo estremo difensore over.